Benvenuti nella mia cucina, sono Nicola e oggi vorrei preparare un piatto molto saporito. E' un orto come si chiama? Va bene lo stesso. Ah, il biscotto pananoso! Mi vorrei chiamare la mia assistente, l'alissa, un applauso, l'alissa che sta arrivando. L'alissa. Ottimo. Lei mi darà una mano a fare questa cosa qui. Intanto vorrei far vedere, oh madonna, succescia. I prodotti che useremo, allora, delle mele fresche, proprio, guardate, freschissime. La banana. La banana. E' curuta ancora. Guardate la banana, la banana sta benissimo. Famola vedere bene. I cereali, i scotch cracker, i biscotti e le gocce. E le ore delle gocce. Bene, allora iniziamo a spremere un po' le gocciole. Puoi vedere perché sono qui le gocciole? Le gocciole sono gocciolose, fioi. Ah, mi ha perso il baballino, scusate. Le gocciole. No, allora aspetta, se no ci vediamo se le gocciole sono saporite. Mmm. Mmm. E' una banana. Io ci butterei i cracker. I cracker, inizialmente i cracker. Prendiamo un po' di acqua per fare il bananoso, i nostri biscotti. prime, io mi sto sprenzando. E va bene, buttar via. Nel sprinker. Mi sto spremendo i cracker. Scusa, io ti faccio i pezzi. Vi ricordo che le bocciole sono lì a scopo informativo per far vedere che sono le gocceole. Copete. Cop. La cop. Sei tu. E sapete perché la cop fa schifo? Perché la cop sei tu. papà l'articolo benissimo un po' di cerea pochissimi grazie signore pochissimi madonna c'è capino dai mi stanno piacendo di capirmi non siamo qui a smacchiare gliopardi per piacere veloce scudate il meglio dire pochi no pochi madonna adesso mi trocca magari tutti ah mischiamo il tutto no ok ora questo qui lo versiamo nel sperma non fare gli scotti baronosi puoi andare a tenere un cucchiaino per favore un cucchiaino signora è il cucchiaino si è andato sì grazie che è lì dentro lì 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 sul primo cassetto lì qui c'è lo sedi eeeh se è scasso eh ti mi posso pubblicitare un secondo perché c'è stato un blackout adesso è tutto a posto la mia segretaria ha portato cucchiaino e adesso stiamo per fare il biscotto baronosi qui abbiamo mescolato tutto per bene la nostra segretaria volentemente vorrà berlo prima dobbiamo pulire il bicchiere ecco a posto basta quando non ci ho messo a posto guardate intanto guardate che schiuma guardate che schiuma a posto guardate che schiuma guardate che schiuma guardate che schiuma guardate che si è scattiva come gallina adesso fatti cotto grazie grazie ah scusa al secondo devo salutare l'elisa ciao elisa grazie